Tra meno di un mese inizieranno i lavori di restauro del Convento dell'Inviolata di Riva del Garda, che verranno effettuati dalla ditta Lares Lavori di Restauro di Venezia. Un'opera del valore di 1.423.000 euro, comprensivi degli oneri per la sicurezza, che prevede il consolidamento strutturale dello stabile e il rifacimento degli impianti dei pavimenti e degli intonaci. Saranno restaurati anche alcuni affreschi e superfici decorate, ma per questo aspetto ci sarà un secondo appalto, che porterà il costo totale dell'intervento a 3,2 milioni di euro. Il progetto prevede di adeguare il convento al piano terra per attività culturali ed eventi musicali in sinergia alle attività dell'antiguo conservatorio, a cui l'ex convento è collegato. Mentre il primo piano è pensato per attività ecclesiali e culturali, in virtù dell'intesa con l'Arcidiocesi di Trento, nella prospettiva della creazione di un centro studi diocesano sulla musica sacra.